La seconda finale di quest'oggi! 3, 2, 1, su, la, in su, la, in su! Ricordata, il tuo first last line! 3, 2, 1, su, la, in su, la, in su, la, in su! 3, 2, 1, su, la, in su, la, in su, la, in su, la, in su! 3, 2, 1, su, la, in su, la, in su! 3, 2, 1, 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 su! 3, 2, 1, su! 3, 2, 1, su! 3, 2, 1, su! E' super fallo il maestro Macielo Pescella e tutti quelli che sono tutti i massimi che avrebbero un'altra banda. E' un'altra scelta, un'altra scelta. Come il finale ha portato a riguardo all'inizio, allora dovete fare un'altra scelta. Sì! Sì! Bravo, bravo! Ate, non so qui. beh 주�si la mia e una squadra scelta. Cryste del funeratore Scelta delカ Scelta del cin Hannah Scelta del Carlo